Sei un principiante di minecraft? Magari non sai usare la redstone? Il tuo sogno è creare tante le bonde su minecraft? Magari per trovare la redstone? O addirittura non sai rifiutare la redstone? Stai messo male, fratello. Ti conviene guardare un tutorial. Guardare un tagliante di un'acqua. Guardare un'acqua. Guardare un'acqua. Guardare un'acqua. Grazie a tutti Grazie a tutti